Quanti anni ha signora? Ah beh caspita, vi porta benissimo, complimenti, complimenti Oh grazie signora, scusi, grazie mille Questa è la cascata? Sì, è la cascata questa scuola 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 E che carina quella casa lì Lo scogliattolo È la cascata? È la cascata questa scuola Sì, è la cascata questa scuola Sì, è la cascata questa scuola È la cascata? È la cascata questa scuola